Il 4 dicembre sono iniziati i lavori per ristrutturare il tenso statico Stefano Lamotta di Nicosia. Verrà sostituita interamente la copertura ormai danneggiata ed inoltre la pavimentazione di tutta la superficie anziché del solo rettangolo di gioco. L'inizio dei lavori è coinciso con lo smontaggio della vecchia copertura ormai strappata e bucata in diversi punti. Il giorno dopo, il 5 dicembre, una gru ha essato il nuovo telone e sono iniziate le operazioni per stendere il nuovo tetto della tenso struttura. Nel 2015 il comune di Nicosia partecipò al bando nazionale 500 impianti sportivi di base emesso dall'istituto del credito sportivo che prevedeva l'erogazione di un mutuo massimo di 150.000 euro al tasso di interesse zero per una durata di 15 anni per gli enti locali. Nel luglio del 2015 fu redatto dall'ufficio tecnico comunale un progetto preliminare il cui costo ammontava 100.000 euro ed ebbe una prima approvazione dall'aggiunta. Il credito sportivo ammise favorevolmente il progetto concedendo il mutuo per una durata di 15 anni pagabile annualmente con due rate semestrali. Il progetto nel febbraio 2016 riportò il parere favorevole del Cone successivamente dopo che fu redatta la progettazione esecutiva nell'aprile del 2014 a maggio dello stesso anno ottenne i pareri favorevoli dell'AspDN e della soprintendenza ai beni culturali. A novembre 2015 il credito sportivo garantì la copertura finanziaria del progetto. Nel luglio di quest'anno la gara per i lavori è stata assegnata alla ditta GMPSRL unipersonale di Venafro in provincia di Isernia con il ribasso del 33,87% sull'importo a base d'asta di 80.193 euro quindi con un importo complessivo di 53.258 euro. Tra le prescrizioni del Cone per la concessione del mutuo era necessaria la costruzione di spogliatoi e bagni per disabili. Il 24 marzo di quest'anno l'ufficio tecnico comunale ha redatto un progetto esecutivo per realizzare queste opere per un importo complessivo di 50.000 euro. I fondi provengono dai rimborsi degli espropri dell'ANAS per la costruzione della Nord-Sud. Si tratta di 320.000 euro che sono stati vincolati per la valorizzazione del patrimonio comunale. Attualmente soffruiscono della tensostruttura, oltre alle scuole cittadine, anche le società sportive nicosiane. All'interno si svolgono le gare agonistiche di pallavolo, calcio a 5 e basket.